Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati sul mio canale. Niente di che che poi ieri sono andata alla festa dello sport e praticamente ci siamo divertiti tutti, infatti neanche un'ora fa mi sono svegliata, infatti c'è una faccia da cadavere. Sono rosso perché praticamente sono stata sotto il sole tutto il giorno e quindi mi sono un po' embronzata. E domani, domani ci parte per sapore. A parte quello, adesso poi preparerò la valigia, porterò quello che mi servirà per quei cinque giorni. Niente di che che poi ieri mi sono divertita un mondo e poi domani un altro capitolo si apre. Per oggi è tutto, lasciate like e iscrivetevi al canale se anche voi per caso non siete mai stati a Savona. E se volete scrivetemi anche dove, così forse farò altri viaggi. Per oggi è tutto, da Ase Bianchi o anche Federica, out. Per oggi è tutto.